che anche lei ha visto in evidenza le capacità creative di Stefano con la creazione di questo nuovo circolo culturale, avendo Stefano apprezzamenti oltre che nell'ambito dei confini nazionali anche in grado internazionale e anche lei sollecitava un accordo con Procida per creare una mostra sulla nuova città della cultura, sperando che questo sia un viatico per nuovi incontri che ci vedranno sempre presenti e sempre con attenzione seguiremo questi incontri organizzati da Stefano. Diamo ora a lettura di una breve biografia relativa all'artista partenopeo di Fedele Pischetti nacque a Napoli il 30 marzo 1732 da Francesco e Candina Severino nello stesso giorno venne battezzato presso la barrocchia di Sant'Anna di Palazzo con i nomi di Francesco, Gennaro e Federico. ha preso i primi rubimenti dell'arte in ambito solinenisco nella bottega del pittore Gennaro Corretti ma completò la sua formazione a Roma dove conobbe l'opera di Pompeo Baturi 1708-1787 e quella di Anton Raphael Mendes 1728-1779 che era caratterizzata dalle loro istanze plasticistiche a cui il nostro attista aveva. Nel 1753, all'età di 21 anni, si unì il matrimonio con Maria Anna Corretti, figlia del suo primo maestro in quittore Gennaro. Da questo matrimonio ebbe vari figli, tra cui si ricordano Alessandro, Foloardo e Roberto, che si dedicarono tutti alla pittura, cooperando con il padre nella decorazione di edifici più grandi. collaborava dal 1759 al 1770 con il pittore d'Arcinetto Mario Gioffredi 1718-1675, firmando insieme alcuni lavori religiosi in diverse chiese napoletane ed eseguati potente non sempre di qualità eccece. Nel 1766 sottoscrisse con altri artisti il nuovo Statuto della Converga di San Luca dei pittori a Napoli. In questo periodo realizzò per la famiglia Carugli il dipinto Esaltazione del nome di Maria 1767 per la chiesa di San Francesco che lo sottoscritto a terra e prendere. Secondo alcuni il dipinto sarebbe stato fatto con il pittore Mario Gioffredi. Fedele Fischieri, nel giro di pochi anni, acquisì la fama di frescante di abitazioni private. Nel 1772, in occasione del tentativo di riforma della reale Accademia del disegno di Napoli, che fu fatta da Giuseppe Bonito, 1707-1789, e da lui cittadino di Penele Fischetti, un proposto per diventare recente, ma non ottene l'interno. Entrò così nelle grazie prima di Luigi Dalvitelli, che lo volle nella sua squadra per la possuenza regge di Casetta e poi alla morte di quest'ultimo del figlio Pagli, 1737-1822. In parte, dal 1778 al 1781, lavorò alla decorazione della regge di Casetta con scene mitologiche e dalle rotte. Successivamente decorò il casino reale di San Vecchio. Il nostro figliore morì all'età di 60 anni, il 25 gennaio 1792, e fosse morto nella chiesa di Monte Calva Pagli. A Napoli decorò alcune salle del Palazzo Taraffa di Magdaloni, del Palazzo Caracciolo di Torella, di Palazzo Loria d'Anni, della via Campolieto di Adercolano, della regge di Capodimonte, della regge di Carditello e del Palazzo Reale di Napoli. Grazie. 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 Grazie.